In questo momento io non dovrei nemmeno essere qui a registrare questo video, anche perché sono appena tornato dal lavoro e ho pochissimo tempo, perché ho l'asta del fantacalcio tra... 25 minuti fa. Però ci tenevo, mi sentivo proprio moralmente obbligato a commentare quanto è appena successo. Per chi non lo sapesse, è infatti appena stata presentata ufficialmente PlayStation 5 Pro. E fin qui non è che sia una grandissima novità, perché già circolavano rumor da tempo, tant'è che io stesso ve li avevo raccontati in un video che ho pubblicato addirittura a fine agosto. E tra l'altro tutte le informazioni che ho riportato in quel video si sono poi dimostrate essere corrette, essere veritiere. L'unico dubbio, se vi ricordate, se avete visto quel video, riguardava il prezzo, perché non c'erano notizie in merito e quindi abbiamo provato a fare delle supposizioni. Io, come in realtà tantissimi altri, tra giornalisti, analisti di mercato e quant'altro, abbiamo ipotizzato un costo di circa 650 euro, che è più o meno in linea con il prezzo attuale della PlayStation 5 e su quelli che sono gli standard di mercato, o perlomeno quelli che fino ad oggi sono stati gli standard di mercato, perché in realtà nella sua presentazione ufficiale Sony, o se preferite PlayStation, ha chiuso con un colpo di scena che ha spiazzato tutti quanti. PlayStation 5 Pro, infatti, costerà 800 euro. E attenzione perché non è tutto. La PlayStation 5 Pro, che è stata presentata, è in versione digital only, quindi senza il lettore disco, che è venduto separatamente. Per cui, se voi magari volete passare dalla vostra attuale PlayStation 5, sulla quale avete comprato dei giochi in formato fisico, come ho fatto ad esempio io, dovete anche comprare a parte il lettore disco, che costa 120 euro. Altrimenti, quei giochi non sarete in grado di giocarli. Per cui, la versione con lettore disco viene 920 euro in totale. Se poi volete aggiungerci anche lo stand per tenere in piedi verticalmente la console, che una volta era tranquillamente integrato nel bundle, dovete cacciare altri soldi. Praticamente arriviamo a circa 1000 euro di spesa per una console. Una console mid-gen. Che poi, che cosa offre effettivamente di più questa PlayStation 5 Pro rispetto al modello base? In questo momento non voglio entrare nel dettaglio. Pubblicherò poi, se volete, fatemelo sapere nei commenti in realtà, un video più dettagliato in cui proprio approfondisco le differenze tra le due versioni della console. Però, dette in parole povere, ve lo leggo così non mi sbaglio, abbiamo quattro grandi novità. La prima è l'hard disk più grande. Ci sarà un SSD da 2TB. E fin qua fa molto, molto, molto piacere. Poi abbiamo un miglioramento alla scheda grafica, che offrirà il 67% in più di compute units, che è questa unità di misura, diciamo, che viene usata per definire la potenza di una console, ma che di fatto poi dice il giusto, dice il giusto, perché bisognerebbe entrare molto, molto, molto più nei dettagli. Comunque, oltre a questo 67% in più di compute units, ha anche una memoria più veloce del 28%. Infine, 45% più veloce il rendering del gameplay, che quindi dovrebbe garantirvi più FPS, detta stretta stretta. Poi abbiamo un ray tracing migliorato, e abbiamo, che sarebbe per quella tecnologia, per chi non lo sapesse, che gestisce le luci, l'illuminazione, le ombre, i riflessi, tutti gli effetti di luce, praticamente. Ed infine, l'upscaling guidato dall'intelligenza artificiale. Anche di questo, tutte queste informazioni le avevo già approfondite di più, comunque, nel video che vi dicevo all'inizio. Comunque, tramite Spectral Super Resolution, si riuscirà ad aumentare, ciao Spyro, la risoluzione tramite intelligenza artificiale. Che, tra l'altro, questo è software, non è manco hardware. Queste sono le quattro grandi novità che introduce PlayStation 5 Pro. Onestamente, se volete sapere la mia, spendere dagli 800 ai 1000 euro, solo per questo, mi pare decisamente, ma decisamente esagerato. Poi, comunque, mi informerò meglio, farò un video, se lo volete, lo ribadisco, di confronto dettagliato, in cui, anche io stesso, capirò meglio quanto ne vale o non ne vale la pena di comprarla, sta PS5 Pro. Ma, ora come ora, sono alquanto, non nervoso, ma deluso, stizzito, se vogliamo, da questo prezzo, che, per me, è improponibile. E questo, alla fine, è un video sfogo. Non volevo entrare in merito a nulla, perché farò dei video dedicati, eventualmente, per parlare di queste cose. Volevo condividere con me, con voi, la mia reazione. La mia reazione, perché, in quanto gamer, che fin da piccolo, ha sempre giocato su PlayStation, oltre che su computer, per fortuna, è stata veramente una brutta, una brutta, pessima notizia. Comunque, PlayStation 5 Pro, esce ufficialmente, il 7 novembre. Credo sia già, prenotabile, non ne sono sicuro, questo non l'ho controllato, non mi interessava, assolutamente farlo, anche se, dopo questo video, dubito altamente, che PlayStation, mi darà, una copia, un'unità della console, ma questo è un dettaglio. Io vi ringrazio, per la pazienza, che avete dimostrato, ascoltando il mio sfogo, fino a questo punto, quindi, grazie mille, davvero. Grazie mille, e anche a tutti coloro, che già si sono iscritti, al mio canale, e che magari, dopo questo video, non l'avevano ancora fatto, ma finalmente, hanno deciso di farlo. Ricordate anche, un bel like, e noi, ci vediamo, alla prossima.